Si aggrava la posizione di uno degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Salerno sul presunto sistema corruttivo che ha coinvolto giudici rappresentanti della commissione tributaria regionale ed imprenditori disposti a pagare per chiedere un aiutino rispetto alle sentenze. Un indagato già sottoposto alla detenzione domiciliare a seguito dell'ordinanza di custodia dello scorso 18 ottobre per il reato di corruzione in atti giudiziari è a seguito delle ulteriori indagini del nucleo di polizia economica finanziaria della guardia di finanza di Salerno ora coinvolto in altri due episodi di corruzione più gravi mentre nella precedente ordinanza il giudice indagato aveva solo un ruolo di mediatore ora le prove lo inchiodano come il destinatario di 10.000 euro in cambio di due pronunce favorevoli per un valore complessivo di un milione di euro ad incastrare il giudice alcune dichiarazioni rese da altri due indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi e ulteriori prove documentali.